Si tratta appunto di uno sportello di consulenza gratuito ovviamente al cittadino riguardo agli incentivi statali che rientrano all'interno del decreto rilancio e che appunto riguardano tutta l'edilizia residenziale e condominiale qui ad Arezzo e provincia. Dalla consulenza alla cessione del credito alla Casa dell'Energia di Via Leone Leoni arriva così un nuovo sportello per l'ecobonus a 110%. Ecco che cosa facciamo? Diamo una consulenza e diamo un aiuto al cittadino ad orientarsi in questo ambito che non è sempre semplice visto che coinvolge anche la pubblica amministrazione che oggi purtroppo vive un impasse dovuta anche al Covid e quindi alla possibilità di appuntamento con i vari incaricati comunali. Quindi noi ci occupiamo di valutare caso per caso l'esigenza del cliente e poi andare poi a fare appunto l'attività di General Contractor in collaborazione con Aretina General Contractor che seguirebbe la pratica quindi dalla parte di progettazione fino alla costruzione e fino all'efficientamento dell'edificio perché questo ovviamente è servizio e volto a far sì che l'edificio diventi il più efficiente dal punto di vista energetico possibile e che ovviamente si risparmi in bolletta e ovviamente si risparmi anche nelle emissioni di CO2 dannose all'ambiente. Si tratta dunque di uno sportella doc, un gruppo di professionisti qualificati guiderà l'utente nei meandri delle norme fornendo consulenza sia a livello tecnico per i lavori da eseguire che per quanto riguarda la cessione del credito il servizio è prenotabile con un'email ad info.nuovenergiaitalia.com Questo è un servizio che si unisce agli altri due grandi sportelli che abbiamo che sono lo sportello energia che è sulla consulenza proprio della matrice energetica e la possibilità di impianto di energie rinnovabili sulla propria abitazione e a quello dello sportello della raccolta differenziata sviluppato in collaborazione con Say Toscano ormai da due anni che ha visto anche crescere la raccolta differenziata a livello di centro storico e proprio c'è una distribuzione dei sacchetti una sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che rappresenta il futuro.